Buonasera a tutti, sono contento di prendere la parola. Il mio intervento non vuole essere una riflessione approfondita, ma piuttosto un indice di desideri, di pensieri, di speranze. Il primo punto di questo indice mi sembra questo, la Chiesa ha bisogno di un esercizio di immaginazione, immaginare. Cioè quando si pensa a una cosa bisogna immaginare vuol dire farsi un'immagine delle persone a cui questa iniziativa è rivolta. Immaginare vuol dire rappresentarsi la condizione di coloro che sono destinatari di una cosa. Io faccio questo esempio, chi costruisce una Chiesa deve fare un esercizio di immaginazione per dire chi entrerà in questa Chiesa. Se immagino che entrino solo persone che vedono, che camminano bene, che sanno stare bene in piedi o in ginocchio, vuol dire che questa immaginazione è rivolta, si immagina una umanità che non esiste. Perché esiste chi cammina bene e chi non può camminare. Esiste chi vede e chi non può vedere. Questo esercizio di immaginazione impegna invece a dire ma come fa uno in carrozzina come su una barella, come andavano da Gesù, a entrare in una Chiesa se c'è una scala, una scalinata. Come fa uno che non vede a trovare il posto in cui sedersi? Come fa uno che non sente ad ascoltare la parola che viene annunciata e così via. Quindi io dico c'è un capitolo che è questo, un esercizio di immaginazione, di mettersi nelle condizioni reali dell'umanità, che non è fatta tutta di giovani e non è fatta tutta di vecchi, che non è fatta tutti di vedenti e non è fatta tutta di ciechi, che non è fatta tutti di udenti e non è fatta tutta di sordi. Quindi questo, ecco, per esercizio di immaginazione, sempre naturalmente io qui parlo di quello che la Chiesa deve fare, potrebbe fare, siamo chiamati a fare. Questo è il primo punto che vorrei esprimere come proposito, anche mio, perché è chiaro che quando uno fa una predica si preoccupa di dire quello che pensa e pensa che gli altri possano ascoltare. Invece qualche volta il microfono non funziona, qualche volta chi è sordo non può sentire, chi è ipodotato non può percepire. Quindi io quando faccio una predica, quando celebro una messa, ma questo vale per tutti, per l'insegnante, il catechista, l'allenatore del calcio, tutti dobbiamo fare un esercizio di immaginazione per evitare una specie di pigrizia del pensiero che si limita a se stesso, che pensa che tutti sono come lui o come lei. E quindi io cammino e penso che tutti camminino, invece ci sono quelli che non camminano, io sento e ci sono quelli che non sentono. Una immaginazione oltre l'inerzia del pensiero. Un secondo titolo di questo indice che vorrei condividere è che la missione della Chiesa è di portare il Vangelo a tutti, nessuno escluso. Ma questa destinazione universale del Vangelo significa una proposta di conversione, di santità. Il Vangelo non è un libro da leggere, ma è la presenza viva di Gesù che parla, che parla al cuore delle persone, molto più che all'udito, molto più che al pensiero. Ecco, quindi a me sembra che noi dobbiamo essere tutti capaci di ascoltare e annunciare il Vangelo. Cioè dobbiamo rispondere alla nostra vocazione alla santità. Questo in qualunque condizione siamo. Come è stato ricordato, Pio Istituto ha dedicato molta attenzione alla formazione spirituale, alla preparazione ai sacramenti, a insegnare la preghiera. Oggi mi sembra che troppo spesso questo tema della preghiera o della celebrazione della messa o della confessione, come veniva ricordato, è quasi ritenuto un po' marginale. E quindi sembra più importante, ecco, affermare dei diritti, rivendicare degli aiuti. E questo è legittimo, è doveroso. Ma quello che penso la Chiesa deve avere a cuore è di aiutare tutti a vivere la loro vocazione. Non una generica pietà o preghiera o partecipazione alla messa, ma a vivere la propria vocazione. Quindi a esplorare le vie della santità che tutti percorriamo. Quindi io aspetto anche la testimonianza di sordi santi, di persone che attraverso la loro condizione concreta hanno incontrato il Vangelo, si sono convertiti e sono diventati santi. Non perché si faccia una specie di canonizzazione ufficiale, ma la santità concreta di persone che vivono il Vangelo. La santità è fatta di amabilità, di umiltà, di coraggio, di coerenza, di unione profonda con il Signore Gesù, come veniva ricordato anche dalla testimonianza. Questo è il secondo capitolo, cioè quale santità per me, per i sordi, per tutti coloro che hanno disagi, per tutti coloro che sono giovani, per tutti coloro che sono vecchi, eccetera. Il Vangelo per tutti vuol dire la santità di tutti. Un terzo titolo del mio intervento si può esprimere con questo, cioè ciascuno deve domandarsi che dono sono io per gli altri, che cosa ho da offrire alla comunità di cui faccio parte. E quindi non soltanto cosa devono fare gli altri per me, ma io che dono sono per gli altri. Il tema che Don Mauro diceva, la partecipazione, essere parte, vuol dire questa reciprocità dello scambio dei doni. e ciascuno di noi nella sua povertà e nella sua ricchezza, nella sua fragilità e nella sua forza è chiamato ad essere un dono per gli altri. Quindi la domanda è questa, che dono sono io per gli altri? Ecco, questi sono i tre punti con cui volevo radunare un po' i miei pensieri. L'impegno per una immaginazione oltre sé, la grazia di una santità nella propria personale, concreta situazione, la domanda, l'inquietudine che si domanda che dono sono io per gli altri. Ecco, questi sono i pensieri che volevo dire. Voglio concludere ringraziando molto e esprimendo la gioia di questa 170 anni di attenzione, di accompagnamento, di benedizione per le persone sorde. Voglio quindi dire una memoria grata di tante persone che hanno aiutato, che attraverso anche l'istituto come hanno testimoniato sono diventati uomini e donne veramente intensamente cristiani. Voglio dire la mia gratitudine. Io ho conosciuto tra i preti che sono stati citati Don Puricelli, Don Luigi che è morto di recente e ho imparato da loro una sensibilità che mi fa anche un po' sentire in colpa perché come arcidiocesi di Milano dopo la morte di questi vecchi preti dedicati all'attenzione ai sordi la nostra diocesi non è riuscita per anni a esprimere preti particolarmente dedicati a questo e quindi devo dire la gratitudine per il passato e la gratitudine per il presente perché appunto Don Mauro ha cominciato questa consulta che è un'attività diocesana che mancava e quindi mi rammarico che per diversi anni sia mancata una attenzione specifica quindi quindi la gratitudine quindi il desiderio di intensificare questo esercizio di immaginazione per aiutare tutti e l'apprezzamento per la testimonianza di fede che io ricevo da voi e da tante altre persone che comprendendo e soffrendo per una disabilità tuttavia sono testimoni di fede di carità e quindi edificano la chiesa grazie grazie a Monsignor Delpini grazie